Ciao a tutti, come state? Sono Kamigiri, benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vi mostrerò gli ultimi acquisti che ho fatto su Shein a tema primavera. Queste cose le ho prese in più ordini, alcune le ho già aperte, altre non ancora. Infatti qui ho l'ultimo pacco che mi è arrivato, però prima di iniziare con LOL vi raccomando di lasciare un like, di andarvi ad iscrivere e di andarmi a seguire anche sugli altri miei social. Bene, possiamo iniziare. Inizio con le prime cose che mi sono arrivate, alcune di queste le ho anche già utilizzate. La prima cosa che vi faccio vedere è questo body qui. È un body rosa, tutto traforato, super trasparente, infatti bisogna utilizzarlo con qualcosa sotto. Ed ha questa trama qui a fiori. Addosso sta molto bene, ha queste spalle un po' così a sbuffo. È veramente carino, in fondo si può aprire e questa è una cosa secondo me molto importante nei body, perché io non sopporto quelli che non si possono aprire in fondo, cioè sono veramente scomodissimi secondo me. Di questo io ho preso una M e l'ho pagato 6 euro in offerta al posto di 12. Eccolo qui indossato, è molto carino, come vedete è trasparente. Io l'ho messo con sotto un top bianco, ma secondo me sarebbe bene anche con un reggiseno o un top rosa. Non è assolutamente scomodo da indossare e la taglia è giusta. Secondo pezzo che vi faccio vedere è questo vestito qui, a quadri, molto lungo. Questo arriva fino alle caviglie praticamente. È abbastanza pesantino, direi appunto perfetto per la primavera. Qui dietro è elasticizzato ed ha questa trama qui, scozzese, verde e nera. Gli è piaciuto perché è sicuramente particolare come vestito e secondo me può essere utilizzato sia quando fa più freddo, basta mettere sotto una maglia a maniche lunghe, sia quando c'è un po' più caldo mettendo sotto una maglietta a maniche corte. Di questo ho preso una M e l'ho pagato 12 euro, anche questo era in offerta. Io l'ho indossato con sotto una maglietta a maniche corte nera. È molto lungo, arriva fino alle caviglie. La taglia è giusta, è comodo. È abbastanza pesantino, quindi effettivamente quando c'è caldo non penso sia adatto. Però per il resto mi piace veramente molto, penso che stia bene addosso. E quindi ho provato. Passo ora a dei pantaloni, anche questi lo ho già indossati. Sono dei pantaloni bianchi, semplici, a vita alta. Qui si chiudono con questi bottoni. La particolarità è che sono a zampa in fondo e hanno l'orlo non rifinito. Sono molto carini, molto lunghi, però bisogna utilizzarli con dei tacchi. E li ho presi principalmente perché comunque sono un pezzo che può abbinarsi con tantissime cose, che può essere sia casual sia elegante. Questi jeans sono costati 21 euro e io ho preso una L. Ecco i pantaloni indossati, la taglia è giusta. Sono abbastanza lunghi, appunto, come vi dicevo. Sono a zampa, bellissimi. Mi piace come stanno, in vita sono leggermente larghi, ma niente di che basta una cintura. E quindi super approvati anche questi. Poi questo top corsetto, bellissimo, è di finta pelle. Non è elastico, però comunque dietro si può regolare. Quindi comunque c'è un margine per allargarlo. Ha le spalline, che comunque secondo me sono importanti, almeno io preferisco i top con le spalline. E la coppa è imbottita leggermente, quindi diciamo è bella ferma. Anche questo l'ho già provato, è l'ultima delle cose che ho già indossato, sì. Ed è veramente carino, sta molto bene addosso. Forse avrei dovuto prendere una taglia in più, perché è veramente, diciamo, al limite. Qua ho preso una S, però forse mi andava meglio una M, anche perché appunto in caso si può regolare. Ed è costato 13 euro. Eccolo qui indossato, veramente bello. Questo secondo me può andare sia per la primavera con sotto una maglietta trasparente traforata, oppure in estate da solo così. Comunque per la sera, bellissimo, veramente super approvato. Inizio ora con le cose che devo ancora aprire. Allora, ok, vado con questo. Ok, è un cappello bellissimo. È un cappello da pescatore bianco con la ciliegia ricamata. È veramente fatto bene, cioè è semplice, però appunto ha questo dettaglio. Vediamo come mi sta. Ok, adesso è un po' schiacciata un po' le pieghe. Però per la primavera con un outfit abbinato è veramente carino. E questo l'ho pagato 3,75 euro. Prossima cosa. Ok, questa è una magliettina bianca trasparente. Molto carina con gli orli così a lattuga. Leggermente scollata, non troppo. Corta. Ed è appunto anche questa da usare con sotto qualcosa, oppure da usare questa sotto e sopra, ci si mette un top, un vestito. Ho preso una M e l'ho pagata 3 euro. L'ho abbinata con sotto un top bianco, perché appunto è super trasparente. Non è niente di particolare, però è carina. Un pezzo comunque semplice che si può abbinare in molti modi. Poi, prossima cosa. Ok, questa è una magliettina molto base. È una semplice magliettina nera. Un top nero, con le maniche corte. Però, appunto, mi serviva, perché non avevo un pezzo così base. E questa è perfetta, secondo me, da abbinare proprio con il vestito verde di prima. Di questa ho preso una S e l'ho pagata 4,99 euro. Ecco l'ha indossata, una semplice maglia, quindi niente di che, non è che avessi chissà che aspettative. Però, nella sua semplicità, è molto carina, utile. La taglia è giusta, quindi approvata. Prossima cosa è un altro cappello. Ed è questo. Stipendo. Oddio, è bellissimo. Con le fragoline. Guardate. Bellissimo. È un cappello alla francese. Oddio, come si chiamano? Hanno un nome specifico. Baschi? Può essere, sì. E... Oddio. Come si mette? Non lo so. Proviamo. Ok, direi di no. Devo un attimo capire come si metta sto cappello. Però, no, cioè, non mi sta per niente bene. Comunque il cappello in sé è bellissimo. Devo capire come metterlo. E questo l'ho pagato 4,99 euro. Altro pezzo. Ok, anche questo è un pezzo molto base. Ho preso alcuni pezzi base in questo ordine. È un top nero, semplice, senza trame, senza alcun particolare. E può essere molto utile da usare, beh, sia in estate così, o anche in primavera da mettere sotto a delle maglie trasparenti. Ne ho presa una in quest'ordine che tra poco vi farò vedere. Di questo ho preso una S ed è costata 3 euro. È molto corto, veramente molto corto. È anche abbastanza scollato. La taglia è giusta, è aderente. Super semplice, anche questo. Però comunque ci sta, è carino, quindi approvato. Eccola qui la maglia che vi dicevo. Che bella. Guardate. Allora è trasparente, appunto. È alla trama piena di gatti. Praticamente sono tutti gatti. Guardate che bello. Anche le maniche. L'orlo a lattuga, anche qui. Ha il collo abbastanza alto. Ed è veramente molto bella. Spero che anche addosso sia carina, perché così veramente mi piace un sacco. Di questo ho preso una M ed è costata 5 euro. Ecco l'ha indossata. Secondo me è stupenda. È trasparente, ma comunque non troppo in realtà. Però sì, per forza bisogna mettere qualcosa sotto o in caso sopra. Non sono convinta dell'abbinamento. Forse non ci sta proprio benissimo questo top sotto. Però comunque la maglia in sé è stupenda. La taglia è giusta, quindi approvata. Prossima cosa. E è questo abito qui. Di finta pelle, marrone. Molto carino, sembra. Però appena l'ho aperto ha proprio spregionato un odore. Sapete quello proprio da pelle finta, che è orribile. Comunque ok, spero che appunto lavandolo poi vada via. Bisogna anche un po' stirarlo, perché è tutto spiegazzato. Guardate. Però secondo me questo è molto carino. Sopra una camicia o comunque sopra un maglioncino. Con magari sotto poi dei collant e degli stivaletti. Questo l'ho pagato 15 euro ed ho preso un M. Ecco l'ho indossato, la taglia è giusta. Non riesco però a capire se mi convinca o meno. Non è male. Però non lo so, anche il fatto che comunque sia tutto così spiegazzato non mi fa capire bene se mi piaccia sul serio o no. Poi più che altro il dubbio è anche che, non so, effettivamente, se queste pieghe andranno via. Perché essendo di questo materiale, di finta pelle, non saprei neanche bene come fare per toglierle. Non lo so, qui sono indecisa. Quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se dovrei tenerlo oppure no. Il penultimo pezzo è questo top qui, che è esattamente uguale a quello nero. È proprio lo stesso, solo che l'ho preso anche in bianco. Ed è appunto un pezzo base che può essere sempre utile. Anche questo è costato uguale all'altro, 3 euro, ed ho preso sempre un S. La taglia è giusta anche di questo, ovviamente. È leggermente trasparente, infatti si vede il reggiseno sotto. Quindi forse non è proprio adatto ad essere indossato così da solo, peccato. Però sì, me lo immaginavo comunque, essendo un tessuto leggero, che sarebbe stato trasparente. Ebbene, concludiamo l'all con un piccolo accessorio, che è questo. Non si capisce, ok, lo apro. E appena l'ho visto ho detto no, è troppo carino, lo devo prendere. È questo choker rosso, con anche una collanina attaccata. E l'effetto addosso è molto carino, perché sembra appunto di avere sia un choker sia una collanina. Adesso ve lo faccio vedere. Bene, l'all è finito. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate in un commento. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. Andate anche ad iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Pubblicherò anche altri haul prossimamente. Se vi va andate a seguirmi anche sugli altri miei social. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao! Ciao! Ciao!